L'Ello Iovine Di lui mi ero completamente dimenticato Camorrista al soldo della più grande cellula malavitosa del nord Italia Era un nostro cliente abituale Aveva trovato il modo di convincere il mio capo A smaltire gli eccessi di produzione della loro attività Il problema di Lello è che non sa stare zitto un secondo Lui parlava e io prendevo appunti per il mio libro sulla camorra E non finisce qui Come scrittore di una grande loda, lo sai? Perchè mi sa raccontare tutte fatte nostre strums Allora, quando ci vediamo per fermare il contratto? Non ti sarai mica fatto spaventare da Roma Guarda che Ciacaranda mi ha detto che vuole assolutamente far la protagonista del tuo film Secondo me si è mezza innamorata di te Ciacaranda Cosa sei disposto a rischiare? E spugniamo Sai dove stare a Roma? No Cosa sei disposto a rischiare? No